Il disegno di legge sulla diffamazione attualmente in Commissione Giustizia ha alcuni importanti elementi di novità, primo fra tutti l'abolizione del carcere per i giornalisti, ma ha certamente bisogno di un approfondimento in aula, a mio parere, soprattutto sui temi delle querele temerarie. Ho già espresso più volte la mia opinione in merito, sottolineando come si debba prevedere una sanzione pecuniaria proporzionale alla richiesta di risarcimento se infondata. Altro tema da approfondire è quello della revisione del diritto di rettifica in modo da contemperare i rispettivi interessi dell'evidenza della smentita da un lato e della possibilità per il giornalista di un ulteriore chiarimento. Sarà a mia cura prestare la massima attenzione a questo disegno di legge alla ripresa dei lavori.